Dopo la fuga sei stato assegnato a Gesonazzo per la CIA. Perché si è fidato sapendo che Resnob ti aveva aiutato a fuggire da Volcuta? Resnob... Era mio amico... Ma non ce l'ha fatta. Victor Resnob era un comunista. La CIA non ha pensato che fossi compromesso. Mi hanno messo alla prova. Sapevano che non avrei ceduto e non lo farò nemmeno ora! Il governo voleva Dragovic. Voleva che tu lo uccidessi. Sì... E c'erano anche altri. Altri che dovevo uccidere. Chi? Chi, Mason? Ti hanno tolto dal servizio e convocato al Pentagono. Dovevo far riferimento a Gesonazzo. Ci siamo. Perché al Pentagono? Hudson. Non era autorizzato a rivelarmelo. Il convoglio è pronto, signore. È venuto al Pentagono. Siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Segretario McNamara. La sua reputazione la precede. Metti in moto. La sicurezza nazionale è in pericolo. Quest'uomo non ha paura. Né coscienza. Né debolezza. Si chiama Dragovic. Credo che vi siete già incontrati. Quando lo uccido? È bello riaverla con noi, Mason. Il VIP. È qui. Sembrava che tutti ci stessero guardando. Guardando a me. Allora non ci si poteva fidare di nessuno. A volte nemmeno di se stessi. Per questo sei qui, Mason. Per scoprire se possiamo fidarci di te. Non finisce mai. Ti abbiamo osservato per tutto il tempo. È impossibile. Ce l'ho anch'io al pettacolo. Gli dica che siamo qui. Parola d'ordine di oggi, signore. Autorizzazione Prospero. Eroi Benemedi. Che... Che continuavo a sentire dei numeri. Leader Benemedi. Non riuscivo a togliermeli dalla testa. Autorizzazione aria. Vimbo. Sta aspettando. Sentivo che qualcosa mi consumava. Cosa, Mason? Il centro nevralgico. Credo di non sbagliare se dico che la civiltà è stata salvata più volte. Qui dentro. Non lo so. Mi sembrava... Di sognare. Secondo passo. Uscire dalla tenebre. Terzo passo. Far piovere fuoco. Ti avvicinavi al tuo obiettivo? Stava funzionando. Non ci si abitua mai. Pascia senza fiato, vero? Non ancora. Sikorax. Questo Sancta Sanctorum è del 43. Lo usiamo raramente. Grazie, signor segretario. Buona fortuna, Mason. Presidente. Agente Mason. È un onore, signor presidente. Sieda. I comunisti rappresentano una grossa minaccia. Il nostro stile di vita è in pericolo. Dragovic. Mi hanno detto che lei è il nostro uomo migliore. In assoluto. Spero che sia vero. Signor Mason. Se ne occupi.